Natale, Capodanno senza piogge, a causa dell'alta pressione che da dicembre ha preso stabile possesso dell'Italia. Non si prevedono cambiamenti del tempo almeno fino al 31 dicembre. L'anticiclone, ribattezzato Millennium a casa dell'alta pressione da record, da giorni spadroneggia su tutta la penisola portando nebbia e temperature gelide nelle regioni settentrionali e caldo sopra la media al sud. Al crocevia tra freddo, pioggia e anticiclone siccitoso, il semaforo si è bloccato sul verde fisso a favore di quest'ultimo, che non cessa di incombere sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, a metà dicembre ormai archiviato. Il dato preoccupante è che, secondo le proiezioni, la fase anticiclonico siccitosa persisterà anche oltre la metà del mese. Se le stime verranno confermate, il dicembre 2015 si candida a essere il più siccitoso degli ultimi vent'anni, con un'alta pressione inamovibile fino alla fine dell'anno. Il domino anticiclonico porterà tempo prevalentemente solleggiato al centro-sud e sulle montagne, talvolta nebbioso sulla pianura padana. Temperature sempre sopra la norma, soprattutto sulle Alpi al sud, con valori più bassi e freddi solo dove la nebbia si manterrà per quasi tutto il giorno. Questa situazione non favorirà ricambio d'aria, che diventerà sempre più inquinata soprattutto al nord, con il conseguente aumento dell'insorgere di patologie alle vie respiratorie. Solo a gennaio l'alta pressione potrebbe subire uno scacco grazie a correnti gelide provenienti dal polo nord, che porteranno il vero inverno su tutta l'Italia con neve e gelo su molte regioni.